Si ripresentano a voi i Minstrels presentandovi Una Rosa da Vienna di Lauzzi Guarnieri. Dirige l'orchestra il maestro Franco Monaldi. Una Rosa da Vienna Una piccola rosa Volio da te Niente di più Così saprò se sono viva Una Rosa da Vienna Ti prego Mandami Amore L'acqua del rosso Non parlerò La stringe sul cuore Scrivimi Subito E tanto che Non scrivi più Dimmi che Pensi a me Amore Non parlerò Dimmi che tu Doggerò Non parlerò Dimmi che tu Doggerò Non parlerò Grazie.